La plancia di nave Dattilo, unità maggiore della Guardia Costiera, impegnata da questa mattina nel Mar Chionio in una complessa operazione di soccorso a due imbarcazioni con migranti per un totale di circa 800 persone in difficoltà. Le operazioni sono vese piuttosto difficoltose dalle avverse condizioni del mare e pertanto il Centro di Coordinamento Nazionale di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera ha designato nave Dattilo come coordinatore della scena d'azione in virtù del fatto che ci sono numerosi motovedette e navi anche di altre amministrazioni dello Stato quali Guardia di Finanza e Marina Militare per intervenire nel soccorso a queste imbarcazioni di difficoltà. Le operazioni continueranno nelle prossime ore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.